Buongiorno, buongiorno a tutti, oggi è domenica 7 settembre. Buongiorno, siamo tornati, allegria, amici ascoltatori, sei dimagrito eh? Come stai? Sei contento? Quanto sei contento? Tanto. Eccolo qua, il Meloccaro di Roma. Il Meloccaro di Roma. Salute Meloccaro che lui ha fatto con me la mattina, facevamo il Laos. Senti come cantano già qua, oggi sorpresa, ci siamo riuniti tutti al bar, siamo qua per festeggiare il rientro di tutti. C'è anche, guardate Vincenzo, purtroppo non si vede dove è balzato, c'è anche Susannetta. C'è pure i tacchi. C'è pure i tacchi stamattina. Mi trovano magro. Saluto alla Vincenzo Mollica. Dici che mi trovano magro. No, è secco, secco, secco proprio. È diventato un figurino, sembra un pupetto dei... E i capelli? Vogliamo capire di questa confanata dei capelli? No, ma sei, guarda, è un pischello. Vedi che qua c'è una fonte bianca. È certo. La bandana, la bandana. Eh, perché mi copro la mia feritina. Allora, come va? Bene. Ma tu parti adesso? Tu non partivi a settembre? No, è stata a Roma. È stata a Roma, però la tua famiglia è partita. Sì, Valeria. Tuoi figli? T'hanno lasciato da solo qua? Sì. Eh, vabbè. Allora, questa è, diciamo, la prima di una lunga serie di appuntamenti che noi faremo ogni mattina con... Questa è San Grado oggi. Ah, scusa, donna. San Grado. San? San Grado d'Aosta. Che vuol dire? Che grado? San Grado. Grado? Il calendario mio porta San Grado. Il suo calendario porta San Grado? Il bar porta Santa Regina. Allora, noi dobbiamo fare due santi. Il santo del calendario del bar e il santo del calendario suo, perché quello suo porta... Eh sì, quello suo porta San Grado. Io Grado ho mai sentito, signor. Che cosa hai portato? Lo suo ce l'ha portato alla vite. Ah, ricominciamo. Santa Regina Vergine. Io Regine Vergine, francamente, non l'ho mai vista nella vita mia. Santa Regina Vergine non c'è mai stato, lo sai tu, perché le Regine non sono Vergine? Perché le Regine non sono Vergine? Perché le Regine non sono Vergine? Non escono mai dall'alveare. Non escono mai dall'alveare. E su questa, signore, chi diamo? Perché non escono mai dall'alveare la risposta. Regine, questa è la mandata il mio suocere. L'ha mandata la suocere di Agonia e questa è la fica, perché non il fico e non vogliamo neanche fare doppi sensi, perché questa si chiama così. C'è la fica bianca, anche se è verde, però si chiama bianca, e la fica... Questa è più saporita della bianca. Questa è più saporita della fica nera, della fica bianca. Eccola qua. Bene, un saluto sulla... Questi sono i primi che sono usciti. Sono i primi, le prime... I primi frutti. I primi frutti che sono usciti. I primi. Signori, viva le fiche nere e viva le fiche bianche. Vi salutiamo. Saluta. Vincenzo Mollica e Meloccaro. Grazie a te. Saluta Veronese pure, ho visto. Dove? Stava sull'isola del film. Stava? Veronese. Dove stava? Regista. Ho detto sul messaggio l'altro giorno. Stavano sull'isola? Sì, l'isola del film. Quale isola? E quale film? L'isola del film. L'isola del film. Sì, ho detto giovedì. Ok Veronese, se vuoi, fammi sapere l'isola del film cos'è. Che oggi c'è Dante dietro. Guarda, Dante lo si vede che prende il caffè. Guarda, guarda. Dante è lui. Eccolo qua. Vediamo solo l'indico. Ecco, Dante. Beh, grazie, arrivederci. Tornate all'agonia del mattino. Ci vediamo domani. A domani. A domani. Ciao. 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 Ciao.